ragazzi ragazzi buona serata da corridore nato mickey crow che vi ricorda l'appuntamento di venerdì 24 giugno alle ore 21 live di fornite in collaborazione con video game ragazzi live di fornite alle ore 21 con canale di svideo game di circa 8.000 iscritti per me è un grandissimo onore poter collaborare con lui quindi venerdì 24 giugno dalle 21 fino alla mezzanotte torneo di serve privati in in duo e ovviamente ci saranno tanti tanti premi quindi 800 vbac a testa chi vincerà chi farà più vittoria più win entro la mezzanotte quindi 800 vbac a testa per chi vincerà quindi server privati in duo l'unica condizione è ovviamente essere iscritti al mio canale quindi mickey crow e ovviamente al canale di chi ovviamente mi invita quindi svideo game ragazzi mi raccomando iscrivetevi da tutti e due attivate le campanelline lasciate like alla like quindi veramente di nuovo l'appuntamento ragazzi venerdì 24 giugno con serve privati in duo con svideo game ragazzi buona serata ragazzi vi aspetto numerosi tantissimi un salutone a svideo ciao 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 svideo ciao buona serata ciao 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 Grazie a tutti.